La lettura di futuro contro la paura è dedicata a Mosca. Vi racconto di un viaggio del maggio del 2019, invitato dalla Università Statale di Pianificazione Territoriale, che mi ha portato per l'ennesima volta a Mosca. Ve la racconto come l'ho vista non più da turista, ma da abitante temporaneo, da persona che l'ha vista più volte e ha cominciato a conoscerla. Ed è importante capire Mosca. Io credo che Mosca ci racconti alcune storie preziose delle città in trasformazione, delle ambizioni delle città. Certo Mosca non è tutta la Russia, non racconta tutta la Russia, però racconta quello che la Russia vorrebbe essere, quello che la Russia vorrebbe raccontarci, quello che la Russia vuole che noi pensiamo che sia. Ed è importante. Si intitola Mega Moscow. Mosca è una megacittà. È la città delle città della Russia, come lo era dell'Unione Sovietica prima e del periodo zarista prima ancora. È la vetrina della Russia. Serve a sedurre, convincere e colpire chi la visita della grandezza del continente russo. È un grande gioco di prestigio della potenza russa, accuratamente costruita per destare meraviglia ed esibire magnificenza e potenza. Tutto è moltiplicato. Gli spazi, i colori, le strade, i grattacieli stalinisti, le università e le accademie, la metropolitana e i barchi. Potenza allo stato puro, sia quando era la capitale del colosso sovietico che adesso che è la capitale dell'ancora più potente, anche se ridotto di dimensioni, colosso russo. A me piace molto. La prima volta l'ho visitata nel 1986, quando era comunista e sovietica, bruna e triste, fredda e povera. Dormivo nell'unico enorme albergo per i turisti occidentali, una specie di caserma vicino alla Piazza Rossa. Stanze spartane, riscaldata solo con numerose coperte e per telefonare occorreva prenotare la chiamata al centralino. Ma già allora, sotto la cenere di un'utopia sociale ridotta a distopia politica, covava la sua bellezza pronta a risorgere. Fenice di una democrazia ancora imperfetta ma destinata a rafforzarsi grazie ai giovani moscoviti. Oggi la rivedo per la quinta volta e la trovo sempre più bella, anche perché è sempre più amica e confidenziale. Una città orgogliosa e potente, bella e complessa. Ormai la percorro senza guida e ritrovo luoghi cari e persino volti noti. La sua bellezza risiede anche nel non aver eradicato l'eredità sovietica ma di averla integrata nella modernità del capitalismo, nell'anima turbolenta di una megacittà, di averne fatto quasi un brand, un sistema di simboli talmente potenti dal punto di vista semiotico da risultare senza tempo e universali. I simboli di un impero che non è tramontato, ha solo cambiato ragione sociale e missione, ma non la visione egemonica del mondo. Come sempre il mio primo contatto è random, tra cibo e persone assaggiando meravigliose ostri che in un piccolo stand dedicato alla cucina di pesce davanti alla piazza rossa, restando estasiato dalle bellezze moscovite, sempre molto speciali, e godendo poi di un ottimo whisky sour al sessantesimo piano di una delle torri di Moscow City, il nuovo quartiere finanziario di Mosca accompagnato da caviale rosso e da una buonissima sciscia al melograno, con una impareggiabile vista sulla città. Questa città mi diverte perché è uno scrigno pieno di balocchi, come se avesse saccheggiato altre città e si travestisse per donarvi mille esperienze, e il suo essere una vetrina scintillante, sfarzosa, superbamente allestita, anche se talvolta la merce può essere contraffatta o di qualità inferiore a quanto dichiarato. Bisogna saper scegliere nell'offerta di Mosca, se sapete farlo vi regalerà emozioni impareggiabili. Moscow City è il nuovo distretto finanziario di Mosca, la capitale degli affari che vuole rivaleggiare con la City di Londra e Wall Street a New York. Un piccolo quartiere di grattacieli, mall, uffici, banche e sedi di multinazionali in cui vedi persone che potrebbero essere in qualsiasi altra città occidentale business oriented. Ma anche qui Mosca rivela la sua magia, perché se all'esterno gli edifici in acciaio e vetro sembrano acquistati in un catalogo di SimCity, anche quelli più audaci in fondo sono stereotipi, all'interno riprendono lo stile lussuoso russo, marmi, vetri, storiati, ceramiche, tappetiche, più classico non si può. Ma il corpo di teatro avviene alla sommità, dove si aprono terrazze vetrate che contengono ristoranti, bar, spa e palestre per i ricchi moscoviti e per i turisti di affari che vogliono assaggiare ottimi vini, buoni cocktail e cibo raffinatissimo cucinato da chef stellati. Potete anche fumare una sciscia costosissima, più di una cena, con uno sciscia master che ogni 10 minuti si avvicina per chiedervi se tutto va bene, se è di vostro gradimento, ve la toglie di bocca e l'assaggia per controllare che il fumo sia alla giusta temperatura e per chiedervi se ne volete un'altra. Col cavolo, con quello che me la fai pagare mi aspettavo almeno una sciscia mistra e salta due metri. Comunque vale la pena visitare Moscow City per capire questa mega Moscow che vuole contenere tutte le altre città del mondo, che vuole essere asiatica ed europea, tradizionale e innovativa, lenta e veloce. Non dimenticate infine di guardare dall'alto verso Moscow City di sera quando le sue luci la fanno sembrare un pezzo di New York o di Los Angeles trapiantato qui. Prima o poi arriverà anche la Trump Tower. Zariaide Park è uno straordinario spazio ibrido tra natura e città. È città aumentata dalla natura e natura aumentata dalle relazioni urbane. Progettato da Dillers, Cofidio e Renfro è la maturazione di quanto sperimentato in forma pionieristica con l'highline a New York. Non più una natura piegata al volere dell'architettura o della città, ma una natura come decorazione gentile, floreale, colorata, selezionata, ma una natura in tutta la sua potenza vegetale. Una natura selvaggia che ritorna nelle città attraverso un wild urbanism che non usa una vegetazione garbata, ma usa la vegetazione spontanea delle praterie, delle tundre, delle paludi e delle foreste. Una natura al suo potente stato primordiale prima che fosse sopraffatta dall'antropocene, dall'arroganza di un urbano deformato dall'artificioso invece che alleato con il rurale come sua naturale vocazione. Zariaide Park è uno spazio pubblico senza confini, fisico ed epistemologico, definiti. Un luogo aperto che vive di contrasti tra naturale e artificiale, urbano e rurale, interno ed esterno. Tra tradizione, è vicino al Cremlino e alla Piazza Rossa, è innovazione. Ne sono rimasto affascinate, mi sarei rimasto tutto il giorno perché è uno spazio pubblico che rifiuta qualsiasi scontata categorizzazione. È natura selvaggia, parco, piazza, spazio sociale, centro culturale, auditorium, struttura ricreativa e centro di educazione ambientale. È un parco antigrazioso, come l'avrebbe definito Bruno Zevi, organico nel senso pieno del termine, in un'interfaccia permanente tra naturale e artificiale, minerale e vegetale, selvaggio e civile. Per secoli i giardini sono stati una riproposizione edulcorata della natura, ornamentali come quelli all'italiana o teatralmente pittoreschi come quelli all'inglese, ma sempre una natura in vitro, composta, educata, non invasiva. Zariaide Park invece, grazie alla mano felicissima di Dillere e Scofidio, prende il suo paesaggio di Gilles Clément e ne fa materiale sublime di progetto. Prende la natura nella sua forma più potente e resistente e ne fa declinazione della nostra quotidianità. Il risultato è una parte di città aumentata attraverso il ritorno della natura tra le sue componenti identitarie. Una natura che non è più altro, ma è essa stessa. Una natura che non è più solo risorsa da proteggere passivamente e da non consumare, ma che è dispositivo della nostra vita aumentata nella città del diverso presente. Zariaide Park da solo merita il viaggio a Mosca perché vi affascina e vi perturba. Vi invita a uscire dalla comfort zone per entrare in un territorio selvaggio ma benevolo, come una grande madre natura che torna a vegliare sulla città dei uomini. Ogni visita a Mosca è un trattato dal vivo di geopolitica. Qui i cinesi sono alleati potenti e riveriti con scambio strategico di progetti. Gli iraniani hanno interessi comuni e la Russia li aiuta con trasferimento poderoso di competenze con scambio di materie prime e divisione politica. La Mongolia è un paese strategico e qui trova sempre accoglienza per il suo ruolo di cerniera con la Cina. La Bielorussia è a casa e l'Uzbekistan collabora in varie forme non avendo rotto del tutto il cordone umbilicale. Poi c'è la Germania che con intelligente strategia governativa investe molto nelle collaborazioni scientifiche con la Russia. E questo solo per parlare dei paesi con cui sono a tavola in una pausa della conferenza della State University of Planning che mi ha invitato a tenere un keynote. E poi ci siamo noi italiani che a dispetto delle passioni del nostro vice premier, era il maggio 2019, non esistiamo come paese. Noi siamo qui con il sudore e la capacità delle imprese e delle università. Io sono qui perché Unipa ha un'ottima reputazione nei campi dell'architettura, della pianificazione e dell'ingegneria civile e perché con il rettore Micari abbiamo già fatto tre missioni e non perché siamo considerati come paese nel suo complesso. Uno dei più interessanti e innovativi centri di arte contemporanea al mondo è a Mosca. Un centro culturale privato voluto e finanziato da Dasha Zukova e Roman Abramovic è progettato da Rem Kolas, si chiama Garage ed è un luogo multiforme, aperto alle sperimentazioni, conviviale, ludico e colto. Una mappa e un traduttore per capire la contemporaneità attraverso l'arte visiva. Oggi si arricchisce di un'arena estiva, il Garage Screen Pavilion, progettato dal giovane studio moscovita Syndicate a conclusione di una competizione nazionale. Garage Screen è una bellissima arena estiva al coperto che offre un intrigante programma cinematografico con predilezione per i documentari delle produzioni indipendenti. Anche Garage da solo merita una visita a Mosca, se non altro per la seducente, potente, mitica cornice che lo contiene, il leggendario Gorky Park, parco di divertimenti ma anche luogo di spie durante la guerra fredda. Mosca quindi, questa mega Mosco, come avete visto da questo breve racconto, è una città fatta di città, è una città che le contiene tutti, è una città che vuole raccontare una visione del mondo, una visione delle relazioni politiche, è una città che si fa piattaforma politica, è una città che si fa luogo, arena della politica russa e del suo czar Putin. Però Mosca è anche una città che incede alla modernità, che l'accoglie, è una città benevola con i visitatori. I moscoviti sono persone simpaticissime. Devo dire che le persone più simili ai moscoviti, in generale ai russi, sono i meridionali. Hanno questa capacità di essere scherzosi, gioviali, cantano, gli piace cantare, gli piace fare il brindisi. Devo dire che, a parte le differenze di effigie, di fisionomia, dietro l'apparente durezza dei tratti somatici, tipica delle popolazioni slave, dentro batte un cuore meridionale inevitabile. L'affetto, gli abbracci, l'accoglienza e l'ospitalità con cui mi accolgo, non solo gli amici ai colleghi delle università moscovite, ma anche le persone, le persone che incontri, il sorriso che scatta alla prima occasione, quando si è insieme in forme conviviali, si percepisce il piacere della convivialità, il piacere dello stare insieme, lo stare insieme chiassoso, divertente. Insomma, i russi sono come noi meridionali e forse anche per questo che mi trovo sempre molto molto bene a Mosca. E poi Mosca, vi racconto un piccolo aneddoto, è la città che mi ha fatto scoprire i secret bar, i speakeasy delle città contemporanee. Nel viaggio precedente, di fronte al al mio albergo, una sera che rientravo, noto, un singolare via vai di ragazze meravigliose, ragazzi elegantissimi, che entravano dentro una friggitoria coreana di fronte all'albergo e non ne uscivano. Non li vedevi più, sparivano. La prima coppia, la seconda coppia e poi due ragazze meravigliose con gambe infinite, anche loro spariscono in questa friggitoria coreana. Poi entrano altri due ragazzi e poi di nuovo un'altra coppia. Insomma, un via vai di ragazzi e di ragazze meravigliosi, giovani, con la voglia di vivere, ma che spariscono dentro questa friggitoria coreana. E la friggitoria è un buco, è un bugigattolo. Si vede, si vede il fondo, si vede il cuoco che frigge le sue pietanze. Non ci può essere un reto, non c'è, non si vede nulla. Il primo pensiero è vengono uccisi, affettati e cucinati. Te li servono al successivo avventore. Se entrassi lì, mi servirebbero i lunghi polpacci affusolati della ragazza che è entrata prima, le orecchie carnose del ragazzo che è entrato precedentemente o potrei chiedere anche parti molto più costose e complesse da preparare. Però non regge, non sembra che sia un luogo dove l'antro di Barbara Blu o di Mangiafuoco. Allora cosa fa un urbanista mosca che vede questa scena? Si avventura. Non c'è alternativa. La curiosità prende sempre il sopravvento, l'audacia prende sempre il sopravvento sulla prudenza. Ed entro. Entro e mi guardo attorno, cerco di capire dove possano essere svaniti finché non in fondo, un po' all'angolo, intravedo il classico, butta fuori il classico bodyguard che sta davanti alle discoteche, davanti ai locali, nella sua perfetta livrea nera fisico possente che fa la guardia di una tenda nera. Mi avvicino. Non ci sono alternative. Mi avvicino. Per fortuna, diciamo, ero vestito non dissimile dai ragazzi che erano entrati prima. L'età, insomma, è sufficientemente dissimulata per poter passare per un giovane avventore della movida moscovita. Indico la tenda con fare sicuro, sapendo bene che cosa troverò dietro quella membrana. Il bodyguard mi guarda, scruta il mio outfit, lo trova adeguato con un apparecchio verifica che non abbia addosso armi o chissà cos'altro. E sposta la tenda. Buio totale. Torna in mente il sospetto che allora è probabilmente vero che si viene uccisi, squartati e cucinati. Quello è inevitabilmente l'ingresso della sala di macellazione, però l'odore non è quello. Dal fondo di una scala ripida, in questo buio totale, si sentono risate, parole di scambio, di chiacchiere, tintinnio di cristalli. Allora, scendo, gli occhi dopo un poco si abituano al buio, si intravede una scala di metallo che scende, evidentemente sta scendendo nel magazzino della friggitoria coreana e man mano che si scende poi la scala piega fino a arrivare e a svelare il segreto così accuratamente custodito dalla friggitoria prima e dalla guardia davanti il drapponero dopo. Un secret bar meraviglioso, un ospitisi straordinario con annesso al ristorante, il più bello che abbia visto. Poi da quel momento in poi, dopo aver scoperto questa straordinaria presenza in alcune delle grandi capitali mondiali, adesso li cerco, so che esistono, ma quella è stata la mia prima esperienza, non sapevo che esistessero e rimane però il più bello, forse perché il primo, forse perché era veramente particolare la situazione. Un antro come se fosse la nave di una flotta vichinga, pelli sui divani, animali impaiati alle pareti, un'atmosfera cupa ma gioiosa, è un bancone infinito dove facevano mostra di sé tutti gli spiriti possibili e immaginabili e dietro un barman sublime preparava cocktail meravigliosi. Insomma, era il premio per chi sa che quella friggitoria è soltanto lo schermo che nasconde uno spichisi e il premio di chi si avventura con fare spavaldo e con sicumera per superare quella tenda. E a parte la piacevolezza di quell'esperienza, veramente indimenticabile, cocktail meravigliosi, anche il cibo spettacolare, in qualche modo l'ambientazione ricordava e voleva alludere alla Siberia, alla Tundra, questo nascondimento, questo gioco di diaframmi, un luogo che ne contiene un altro e che poi ne svela un'altra ancora e per me è una caratteristica frequente a Mosca, ve l'ho detto prima, Mosca è una città vetrina, non sempre è quello che vedete la realtà delle cose, talvolta dietro questa vetrina c'è una realtà migliore come quella che vi ho raccontato o come altre come il parco di Dillerscofidio, molto spesso dietro la friggitoria coreana c'è davvero la sala del macello dove potrebbero squartarvi e farvi a pezzi, soprattutto se siete degli oppositori del governo russo e avete manifestato il vostro dissenso. In quel caso, per fortuna, il premio è stata una magnifica serata allietata dagli spiriti del locale e dalla maestria del barman.